E continuiamo con un argomento molto interessante, do la parola al dottor Ivan Giordano perché adesso parliamo di mediazione comunitaria, no, mediazione culturale. Devo fare una precisazione, l'ingegnere Magdi Faltas è presidente dell'Unione della Comunità Euro-Egiziana, ci tenevo a precisare questo. Chiedo al dottor Giordano, noi la conosciamo molto bene, lei è esperto di mediazione tributaria, tutti i forum che abbiamo fatto erano incentrati sulla mediazione tributaria, sulla mediazione fiscale, sulla mediazione civile. Lei è il rappresentante di un organismo di mediazione, uno tra i più importanti di Milano, l'ICAF, che ha aperto degli sportelli all'interno dei comuni di mediazione sociale, che poi sono gratuiti nei confronti della cittadinanza. La domanda mi viene spontanea, ma come mai adesso ha abbracciato anche il settore della mediazione culturale? Provo a rispondere. Grazie innanzitutto al Forum Nazionale dei Mediatori e a Irene e Gian Mario per questa rinnovata opportunità nei confronti miei e nei confronti di tutti noi. È nata un'esigenza, credo che chi ha avuto esperienze pratiche in mediazione e chi è responsabile di organismi di mediazione all'indomani dello scorso 20 settembre abbia notato come un naturale indotto di mediazioni ha portato per alcune materie in particolare, quali la locazione, il condominio, i contratti bancari, anche gli affitti d'azienda, soprattutto in grosse aree urbane, parti di etnie differenti. Io prima ero abituato, anche forse per una cultura, un approccio alla mediazione, ad avere gli italiani in mediazione. Allora ci ponevamo il problema delle tecniche di comunicazione, nel senso più nobile. Quando poi abbiamo cominciato ad avere, io parlo dell'esperienza di Milano, la sede principale dell'organismo che rappresento, ICAF, è in stazione centrale a Milano, ma abbiamo sportelli distribuiti in tutta la regione Lombardia. Quando cominciamo ad avere cittadini di lingua araba, cittadini di lingua cinese, le varie etnie sudamericane che partecipano come parte alle mediazioni, il mediatore che nel frattempo magari ha ampiamente superato l'insufficiente monteore di 50 imposto dalla norma, ha fatto grandi studi, master, si trova di fronte all'impossibilità di comunicare con la parte, si trova di fronte all'impotenza di concretamente raggiungere un accordo, si trova di fronte ad una grossa responsabilità che è quella del monitoraggio statistico per cui se fra due anni e poi fra quattro dimostreremo, salvo quanto ha detto questa mattina giustamente il professor Quinto, dimostreremo di non essere stati in grado di far vedere che la mediazione civile funziona e dovessero ahimè togliere l'obbligatorietà, i nostri investimenti ritornano alla mediazione originale. Ecco che io conosco da molti anni l'ingegner Faltas, l'ingegner Faltas, concedi già Mario questo piccolo inciso perché magari lui per modestia non lo dirà. L'ingegner Faltas è egiziano cristiano, a Milano è conosciuto in quanto imprenditore del settore edile e dei servizi agli immobili e del settore dell'autoriparazione dell'auto in generale. È cristiano e ha dipendenti musulmani, oltre che cristiani. Le forze dell'ordine, le forze di polizia, l'europarlamentare e l'Ara Comi sono stati l'inaugurazione della nuova sede in Viembonati al numero 55 dell'Unione Euro-Egiziana in Italia che lui rappresenta. Unione che nasce dalla fusione, detto in senso improprio, di una serie di associazioni, di egiziani copti, di egiziani musulmani e di Unione Culturale, veramente un progetto che mira ad integrare prima gli egiziani tra loro e poi gli egiziani con gli italiani. conosco Magdi, conosco Magdi da 15 anni, quando io ho avuto questo grosso problema di portare a conclusione le mediazioni con le persone che partecipavano, che parlavano prevalentemente la lingua araba, superando in un primo momento il problema dell'italiano, perché poi loro lo parlano all'italiano. Il problema è firmare un verbale di accordo in italiano per loro. Spesso non ci si fida nemmeno dell'avvocato. A Milano cominciano ad esserci i dentisti cinesi, i dentisti arabi, ma non ancora gli avvocati. Quindi è tutto un settore, quello della gestione giudiziale o stragiudiziale delle controverse, che è ancora riservato agli italiani. Ecco che quando un cittadino non italiano si trova lì, come fa il mediatore ad acquisire il ruolo di buon leader, ad acquisire la fiducia, ad entrare in empatia, a fare tutto ciò che studiamo e che spesso e volte rischia di rimanere tra i libri. E io ho bussato la porta di Magdi e gli ho detto che avevo questo grosso problema, questa grande esigenza e gli ho chiesto di sperimentare con me la possibilità di mettere a disposizione un mediatore culturale all'interno dei procedimenti di mediazione. E lui mi ha detto, come giustamente diceva stamattina il professor Quinto, che mi ha detto ma la mediazione cos'è? E allora mi ha detto guarda che prima di tutto dobbiamo partire formando i mediatori. Vedo Saber qua davanti a me, lui è studente in ingegneria edile, sei nato in Italia, parla l'italiano con l'accento milanese, lo perdonerete per questo. Lui mi ha detto, quando parte il primo corso? Perché io ho bisogno di formarmi come mediatore se vuoi che sia al tavolo accanto al mediatore o accanto alla parte. Ecco, ho cercato di dirvelo guardandolo dal lato più pratico. Il motivo per il quale siamo qua con il presidente dell'Unione Euro-Egiziana in Italia, che io ho la fortuna di esserne amico prima che di instaurare un rapporto di lavoro, è proprio questo. Siamo partiti con questa formazione, abbiamo iniziato questo progetto sperimentale che sta dando dei risultati enormi, tutto questo l'Unione Euro-Egiziana lo sta offrendo alla mediazione civile gratuitamente in questo progetto sperimentale, per il momento purtroppo solo milanese, ma io mi auguro possa essere esteso a tutto il territorio nazionale. Grazie.